Ciao! Anche oggi vediamo un'altra maglia per i prossimi mondiali in Qatar. Questa è la seconda maglia dell'Argentina in edizione FAN, la maglia dedicata ai tifosi. La maglia Away della Coppa del Mondo Argentina 2022 combina due diverse tonalità di viola con dettagli argento, come i loghi Adidas e della Federazione. Ufficialmente i colori sono Legacy Indigo Purple Rush. Il Sol de Argentina in argento chiaro è sul retro, sotto il colletto, simile alla divisa casalinga. Le tre stripes, poste sulle spalle della nuova maglia Away, sono tenute in un sobrio viola chiaro. Completando il look, la maglia presenta una debole grafica sul davanti, anche questa ispirata al Sol de Mayo. Questa è la prima volta che la Nazionale indosserà il viola, un colore comunemente associato al movimento delle donne. La struttura in morbido tessuto anti umidità AeroReady assicura il massimo comfort. Veramente molto bella. Ero un po' indeciso, alla fine ho deciso di dare 4 stelle. Ditemi voi nei commenti se siete d'accordo o meno. Sicuramente però una maglia bellissima, fatta benissimo, con tutte le patch nel modo giusto, con tutti i colori brillanti, con le cuciture che non danno fastidio. Peraltro la maglia di Messi è una maglia che bisogna sicuramente avere. Qui in alto vedete il costo, che per una maglia fatta così bene è veramente bassissimo. Considerando anche che ha dei tempi di spedizione molto buoni, questa è arrivata in meno di 20 giorni. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete le misure. Nel frattempo spero possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.